Saranno obbligatori in tutte le strutture sportive a partire da luglio dei defibrillatori per garantire anche la sicurezza con dei piccoli gesti? Sì, in realtà questa è una normativa che è rivolta non solo alle strutture sportive ma anche agli alberghi, quindi alle palestre, alle associazioni sportive dilettantistiche e professioniste. È un obbligo che rientra in un pacchetto, quello legato alla sicurezza nei luoghi di lavoro e noi oggi in Confcommercio ma anche insieme in collaborazione con una società Universo SRL abbiamo voluto organizzare questo seminario che ha una finalità, quello di fare formazione ma anche informazione rispetto a questo nuovo adempimento normativo che è importante perché questo riesce a salvare delle vite umane. Proprio fa venivano proiettate delle slide nell'ambito nelle quali emergevano dei numeri di quante vite umane si potrebbero salvare se si utilizzasse questo strumento e quindi questo è il nostro obiettivo, quello di informare le imprese che noi siamo vicine e tuteliamo le loro esigenze. Tra l'altro abbiamo di recente anche siglato una convenzione con una neonata banca, IGEA Banca che ha sede qui a Catania per cui la banca agli associati Confcommercio darà la possibilità di acquistare questi defibrillatori con un finanziamento che sarà restituito a tasso zero in 48 mesi. Quindi stiamo facendo l'attività di formazione, di informazione ma anche la possibilità di agevolare l'acquisto di questi strumenti. Perfetto.